Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, una nuova serie di puntate incentrate sui dibattiti, come vedete Polifemo si sta spacchettando in più rivoli, in più settori a secondo dell'argomento ma ovviamente Polifemo è nata per ideazione e creazione di Lella Orzella come dibattito acceso tra rappresentanti politici. Riprendiamo dunque questo filone di trasmissioni e tanti argomenti davvero caldi, Covid e non solo, le scelte del governo che necessariamente si intersecano e si interfacciano con gli enti locali, mi riferisco alla regione, mi riferisco al comune, la questione ambientale, l'ultimo guaio accaduto in Asselor Mittal, il nastro trasportatore in fiamme, la posizione, la replica del Sindaco Melucci dinanzi a questo episodio, gli attacchi delle associazioni ambientaliste al Sindaco, insomma tanta carne a cuocere e poi anche non dimentichiamo le vicende del Consiglio Comunale di Taranto. Presentiamo subito i nostri ospiti, incominciando dalla maggioranza, Mimmo Cotugno, capogruppo insieme al Consiglio Comunale di Taranto per Taranto Bene Comune, articolo 1. E poi un gradito ritorno, il dottor Franco Vitanza è il coordinatore cittadino di Taranto di Fratelli d'Italia, quindi due rappresentanti, uno per il centro-sinistra e uno per il centro-destra, dovrei dire sinistra e destra, perché loro incarnano queste posizioni più nette. Ora con questo centrismo, voi a destra, voi a sinistra, si tende un po' a diluire le ideologie, ma forse è anche vero che le ideologie sono venute meno. Partiamo subito da Mimmo Cotugno, emergenza Covid, certamente parliamo di una disgrazia, di una pandemia, un telefono che suona ma è il bello della diretta, peccato che avevamo detto anche in inizio trasmissione di silenziarlo, ma perdoniamo Cotugno, è bello essere live, no? Nature. E quindi dicevo Cotugno, ha letto il messaggio, tutto a posto? No, non ancora, va bene. Sto spegnendo. Sto spegnendo, benissimo. Sto rispegnendo. Rispegnendo, va bene, è un difetto tecnico. E dicevamo, ora a parte gli scherzi serve anche un po' a sdramatizzare in un periodo difficilissimo come questo, dicevo un'emergenza Covid, certamente è una pandemia, è una disgrazia, qualcosa di inimmaginabile per tutto il mondo, però dobbiamo anche dire, e questo lo ha detto anche l'ex assessore alla sanità Fiore, medico, probabilmente le misure regionali in estate sono state molto ma molto allentate, non c'è stato modo di prevedere, non ci si è adeguati a quello che sarebbe accaduto, si sapeva che sarebbe accaduto, penso ad un piano sanitario adeguato in termini innanzitutto di pronto soccorso, ma anche di ovviamente, soprattutto di terapie intensive. Emiliano che fa il gambero, fa la retromarcia, ora apre, riapre il pronto soccorso del Moscati che era stato miseramente chiuso. Insomma, ecco quello che mi sento di dire, molti si sentono di dire, fermo arrestando l'imprevedibilità della pandemia, però in estate abbiamo fatto troppo lecicale, è stato permesso di fare troppo lecicale tra feste, festine, sagre e discoteche e purtroppo ora il virus è tornato più terribile che mai. Per la verità non localizzerei solo e soltanto in Puglia la questione Covid, perché la questione Covid, anzi se proprio vogliamo e vogliamo renderla cittadina la cosa, noi fino a tutto giugno i nostri dati erano sicuramente molto, ma molto ristretti. Ma già da fine febbraio, inizi di marzo, francamente abbiamo cominciato col dire, dare accuse a destra e a manca di chi fossero le colpe per l'arrivo di una pandemia che poi ha colpito tutto il mondo, tutta la sfera, trovandoci addirittura nazioni, faccio un esempio dell'Inghilterra, a noi più vicina, ma faccio l'esempio anche degli Stati Uniti d'America, che hanno negato l'esistenza della pandemia, hanno ricercato come le colpe in qualcuno che forse colpe non aveva, perché la pandemia, tanto per cominciare dobbiamo definire il popolo italiano come il popolo mondiale, c'è una parte che continua a dire che non esiste. E allora, no, 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 perché poi davanti all'evidenza devo pure dire che Regione Lombardia con il primo contagiato, contagiato zero, quella che fino a metà aprile ha continuato a negare l'esistenza, ma dopodiché è scoppiato tutto quanto. Ma andiamo, perché Emiliano non ha provveduto a creare un numero adeguato di, per esempio, terapie sensibili? Sicuramente c'è un ritardo e continua a esserci un ritardo di tutte le regioni, di tutte le regioni, di tutte 21. No, 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 sto dicendo un'altra cosa, di tutte 21, perché vorrei che qualcuno ricordasse, e lo dico a tutti i Presidenti di Regione o facenti funzioni tali, che la sanità è in capo alle regioni e quindi il Governo nazionale, perché adesso c'è la cherella, i dati, come vengono, e come si passano i dati? E come si vuole che si gestisca la propria regione? Vorrei ricordare Regione Sardegna, vorrei ricordare la regione Campania, non faccio sconti a nessuno, vorrei ricordare anche… Quindi i dati vengono manipolati, si danno dei dati ad hoc per avere dei risultati ad hoc? Allora, non ritengo che chi è del mestiere o di professione per gli studi possa manipolare, purtroppo c'è una cattiva lettura da parte della parte politica che governa a secondo le convenienze, forse devo pensare che in Campania andava bene non far figurare o fare la battaglia per far sì che c'erano delle elezioni. De Luca ha avuto le idee molto confuse, le hanno avute anche coloro i quali venivano fuori da elezioni o da riconferme e dopodiché sono entrati anche loro nel pallone, quindi di conseguenza non è che possiamo fare solo la colpa a De Luca, che ha avuto le sue colpe, che ha avuto le sue colpe, facciamo tutto quanto l'arco, tutto quanto lo si vale. Poi dopo, sempre parlando di Covid, andremo anche a parlare ovviamente delle misure più locali dell'amministrazione comunale. Vitanza, allora a questo punto abbiamo visto un Emiliano, ho detto prima che evidentemente c'era la campagna elettorale e si apriva tutto perché bisognava essere amici del mondo dello spettacolo e del divertentismo. Poi però purtroppo quando si fa troppo le cicale, anziché le formiche, succedono, subentrano i guai. Per carità, per carità, la pandemia è un qualcosa di inimmaginabile per tutte, però si poteva gestire meglio almeno l'emergenza sanitaria, almeno quella. Però una cosa, quando si parla, e poi le do subito la parola, quando si parla però di ospedali chiusi ed Emiliano ne ha chiuso strutture che non andavano chiuse e ora sta facendo una retromarcia, devo anche dire, per l'amor di verità, che ancora prima di Emiliano e con Vendola, quindi ancora prima di Vendola, il signor Fitto chiuse anche parecchi nosocomi. Quindi questa malattia di chiudere le strutture, di considerare il malato solo dal punto di vista numerico è una vecchia abitudine di governatore, di centro-destra e di centro-sinistra. Giusto per chiarire, tanto ormai non c'è più campagna elettorale. Allora, Fitto fece un piano di riordino sanitario che fu attuato poi da chi vinse la campagna elettorale scagliandosi contro quel piano sanitario regionale che poi lo ha attuato, che è Vendola. Però poi tutto quello che è stato Fitto 20 anni fa, non è che stiamo parlando di due anni fa, ci sono stati cinque anni di Vendola, cinque anni di Vendola, cinque anni di Emiliano, allora se poi vogliamo dare la responsabilità… E poi voi avete risumato Fitto. No, ma è stato candidato ed era il candidato migliore secondo me, ma a prescindere da questo non esime tutta questa situazione le responsabilità di una politica becera e ottusa di cui noi siamo purtroppo soggetti, che peraltro parte da un governo nazionale passa da un governo regionale e si ferma a un governo locale. Allora, il problema del Covid e della pandemia, perché parlo di politica becera e ottusa? Quando noi abbiamo subito il lockdown a marzo e ad aprile e il 18 maggio siamo ritornati liberi, già si diceva in quel periodo che sarebbe arrivata la seconda ondata. Quindi io potevo capire che nel momento in cui a maggio, il 18 maggio, Conte ci liberava, era tutto finito, non c'erano più contagi, per cui è chiaro… Ma se tu sai e annunci durante tutte quelle trasmissioni, perché anche su questo avrei incito e poi arriviamo al problema regionale, e dici che ci dobbiamo già preparare ad aprile alla seconda ondata che arriverà in autunno e non prendi le misure che servono per evitare tutto lo sfacielo che sta succedendo oggi, dalla Lombardia, di cui a me interessa relativamente, in tutte le regioni fino in Puglia. Emiliano si è speso nei mesi, non per pensare di risolvere il problema della sanità in Puglia, si è speso per saltare da un salotto televisivo ad un altro, a promettere… Il Baccaradusso attira, per promettere contributi a chi si doveva sposare, per fare appelli a venire in Puglia a passare le vacanze, si è speso in tutto e per tutto, tranne che per trovare una soluzione al problema della sanità e si sapeva che sarebbe arrivata la seconda ondata. Ma dico di più, la Puglia che in un primo momento tra marzo e aprile era stata risparmiata grossomodo dal virus, perché in quel periodo non abbiamo avuto grossi picchi di contagio, non abbiamo avuto grossi problemi, doveva essere da sprone ad Emiliano proprio per evitare che oggi ci potessimo trovare in questa situazione. Peraltro abbiamo chiesto in questi giorni di conoscere perché la Puglia rispetto a tutte le altre regioni ha questo indice alto di mortalità, non si capisce perché il rapporto tra i contagiati, i ricoverati e i decessi noi abbiamo un picco alto rispetto agli altri. Anche Taranto, soprattutto Taranto. Sì, parlo della regione, quindi anche Taranto. Allora cosa è successo? Che si sono presi a livello governativo dei provvedimenti che non andavano presi, gli ultimi 38 miliardi si stanno spendendo ancora per i monopattini e per tutte le regalie che si fanno, non si è fatto un serio piano sanitario a livello regionale per poter arginare la seconda ondata che si sapeva sarebbe arrivata e ora cerchiamo, Emiliano cerca con il suo modo di fare, dove la mattina dice una cosa, il pomeriggio dice il contrario, la sera ne pensa un'altra, cerca di tamponare questo problema che è un problema serio, che riguarda gli ospedali smoscati, riguarda Mandure, Martina, riguarda delle strutture sociosanitarie che stanno al collasso, riguarda la salute dei cittadini e riguarda questi contagi che non riescono a fermarsi. Dicevamo, in questo contesto di Covid ci sono certamente le decisioni del governo, ci sono i DPCM di Conte, devo dire anche esternati in maniera molto studiata mediaticamente, si sceglie l'orario migliore in cui ci sia il top dell'audience, sembra se volessimo così sorridere, ma non è proprio il caso di sorridere, sembra una sopopera quella di Conte, il decreto che fa concorrenza al segreto parlando di sopopera, ma al di là di questa battuta, dicevo in questo contesto, in questo contesto ovviamente ci sono i provvedimenti locali. Diciamo che in molte circostanze il governo si è anche lavato le mani un po' scaricando sui governatori o a peggio ancora scaricando sui sindaci. Il sindaco di Taranto ha emesso l'ordinanza proprio recentissima, dello stop alle ore 18, questo chiamiamolo tra virgolette coprifuoco, anche se devo dire Cotugno, non è che ci ho capito molto e molti cittadini non ci hanno neanche capito molto, perché se tu mi tieni aperte le pizzerie e i ristoranti d'asporto fino alle 22, io poi scendo di casa o arrivo in pizzeria per comprare la pizzeria e portarmela a casa, quindi tanto coprifuoco non è. Ci sono una serie di situazioni un po' particolari, il sindaco ora forse Melucci ha capito che fare lo sceriffo, fare il Salvini paga in termini di immagine, di consensi, solo che Salvini è nato Salvini, invece Melucci si veste da Salvini, penso all'episodio per esempio del sindaco con la giubbotto dei vigili urbani. Un sindaco che però prende provvedimenti certamente giusti, perché bisogna contenere il Covid, però proprio questa mattina o nei giorni scorsi nei mercati, alto che distanze, allora il commerciante si sente tra virgolette presso per i fondelli, perché dice come io bar che mantengo tutte le distanze, il distanziamento, sono un precisissimo, maniacale nel rispetto, io alle 18 devo chiudere, poi la mattina basta andare nei mercati rionali e troviamo le persone, come dire, le une alle altre addossate come sardine. Forse bisognerebbe spiegare un grosso controllo anche non solo per i negozi, ma per i mercati, dico per dire, perché se no poi si rischia di fare due pesi e due misure. Francamente quando mi hai invitato io pensavo che fossero cambiate un pochettino le cose, perché mi sembra di partecipare, ma scusami la battuta, ma giusto per arrivare, perché Franco Vitanza giustamente dice adesso penso alla Puglia, Lombardia lasciamo stare, perché chi governa è oggetto di critiche. Siccome io sono abituato a fare zapping in televisione e quando mi vedo le TV di Stato pro Stato, Rete 4, Canale 5, Italia 1 e pure anche la 7, i servizi dalla Sardegna ce li siamo dimenticati tutti, coloro i quali negavano la presenza del virus in Sardegna e tutti quanti affiliati, discoteche sto parlando, è tutta quella gente bene dell'Italia che negava la presenza del virus, che invitava a fare protesta contro coloro i quali stavano tornando la democrazia in questa Italia, sol perché si consigliava guardatevi dal Covid, siete voi i primi a dovervi difendere, quindi evitate i luoghi affollati, questo significava per qualcuno perdere consensi economici, non consensi elettorali, consensi economici, perché capisco bene che chi aveva le discoteche in Sardegna aveva necessità di far funzionare quelle discoteche, quei grandi alberdi, in Emilia Romagna, dappertutto, dappertutto, perché poi non è che possiamo fare scordare un nuovo passato, non è che mi posso dimenticare lo scordare, neanche le adunanze fatte in campagna elettorale senza mascherine, da parte di tutto di tutti, molto espresso, perché i selfie parlano chiaro, dove adunanze vere e proprie venivano fatte, con parti poi estreme che arrivavano addirittura agli scontri fisici, anche con le forze dell'ordine, questi sono fenomeni da condannare, sono fenomeni da condannare, ecco perché l'informazione, voi che fate informazione, deve essere un'informazione corretta, perché anche i riferimenti beceri al governo, sentite, se per risolvere, lo dico al centro-destra, il problema Covid significa a divenire a un condono tombale sulle tasse, il Covid vale per il 2020, non vale fino al 2019, quando quelle cartelle si sono create, perché questa è la proposta del centro-destra, che non può certo interessare i cittadini, il cittadino comune che paga le sue tasse, no 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 no, siccome si è spaziato, io sto difendendo il governo, ho già detto che forse Emiliano ha sbagliato, quindi sono cosciente sul dire, perché poi per quanto riguarda il piano sanitario voglio ricordare a qualcuno, giustamente Franco Vitanza, il piano era un piano di fitto, poi ti è andato avanti, però ti ricordo che le governance, soprattutto per quanto riguarda le ASL, sono governance che esistevano e che esistono comunque cambi e come i nostri dirigenti al comune che stavano col centro-destra, col centro-sinistra, con la destra, con la sinistra e tutto quanto per i 40 anni, quindi di conseguenza il governatore che domina, sì il governatore è che no no no, parlo delle dirigenze, parlo delle direzioni, parlo delle direzioni, i direttori di ASL sono nominati dai Presidenti, scusate, ma a Taranto abbiamo più sentito parlare dello scandalo ASL del 2000? Venuto fuori? Nessuno ne ha parlato più, eppure quei dirigenti e quel cosa di allora ancora continuano a stare, giustamente, perché non è che il governatore o qualcun capisco che vuole dire Mimmo, sai perché? Nella campagna elettorale ultima abbiamo avuto un sacco di dirigenti della ASL che sono stati candidati, ma per Emiliano però, non per noi, le nomine Mimmo sono da parte la sanità che è politicizzata e per questo noi paghiamo il costo di questa politicizzazione, tutte le nomine avvengono da parte del governatore, a chiunque? Quindi se hai da dire qualcosa sui dirigenti, devi parlare con Vendola, con Emiliano dopo, ma non vuoi dire che addirittura il PIT che ha nominato il dirigente, i direttori della ASL, i manager, vengono nominati dal governatore, dalla regione. Ti do franco perché ci conosciamo da parecchio tempo e facciamo politica da un po' di tempo, io ero un grande avversario, avversario, eh? Beh siete giovani, diciamo che da 40 anni tutte e due la facciamo, così siete giovani. Ti dicevo, io ero un grande avversario del San Raffaele a Taranto. Mi pelillo allora? Io ero un grande avversario del San Raffaele. Ma lei crede veramente che si farà in 399 giorni? Cosa? Il luogo San Cataldo. Una volta arrivato al San Cataldo, adesso è questo della ditta, si è preso degli impegni, pagherà le penali, non confondiamo le cose, perché hanno tutte, qualsiasi ritardo sarà un problema di chi ha vinto l'appalto, qualsiasi ritardo, quindi non dobbiamo andare a fare noi ricorso, non dobbiamo andare a fare noi ricorso sulla ditta che ha vinto come fossimo l'altra ditta che non ha vinto, chiaro no? I giorni sono da rispettare. I giorni sono da rispettare e c'è un capitolato dove è previsto anche la multa per se non si arriva, è stato chiesto. Anche di notte si dovrebbe lavorare. Devono lavorare anche, loro devono consegnare nei 399 giorni. Questo è e questo vale dal momento di questa da mezza. Ripeto, pagano le penali, no io non sto divagando, mi sto mantenendo. No no, per questo sto dicendo. Leggo quelle conseguenzialità, dobbiamo crearcele e assumerci tutte quante le responsabilità, che non abbiamo né io né Franco, ma chi gestisce una serie di cose in Italia, purtroppo sono sempre le stesse persone, purtroppo se vado in sanità lombarda, con la sanità privata lombarda, è una storia che va avanti da 40 anni. Andiamo ai provvedimenti del sindaco sceriffo, aspirante sceriffo. Allora, tanto per cominciare, sfatiamo sta cosa che il coprifuoco scatta alle 18. Così ha scritto. Sfatiamo sta cosa che i negozi chiudono alle 18, continua l'apertura per i negozi con codici a teco, già farmacie, alimentari e tutto quanto, quindi possono continuare tabacchi e così, continuano ad essere aperte. Sono interdette le piazze e le vie dello struscio, intendiamoci e nel momento in cui ci siamo accorti che era saltata una piazza, abbiamo bloccato l'ordinanza e inserita la piazza. Però ricordo Meluzzi a Palazzo di Città che diceva alle 18 state a casa, consiglia di stare a casa. Allora, se non hai altro da fare alle 18, mi dici tu che non sei negoziante, mi dici tu che non ti devi andare a prendere la pizza, mi dici tu dopo le 18 che cosa vai a fare, è la stessa cosa che potremmo tranquillamente eviteremo di fare delle luminarie come quelle che abbiamo fatto lo scorso anno, perché io non posso invogliare la gente, andare su un luogo che ho deciso di chiudere e quindi queste cose le ragioniamo, quindi nessuno ha detto non puoi più uscire da casa, se hai delle motivazioni per uscire, se devi andare sotto casa a prenderti per asporto, non a prenderti il panzerotto e mangiartelo davanti e là, a prenderti il panzerotto puoi andare alle 8, ti fermi e te lo consiglio. E nei mercati tutto questo gran casino che sta? Nei mercati, a parte che il gran casino, ieri so che l'assessore... Le immagini su Facebook, c'erano pure a marzo-aprile immagini su Facebook che poi non corrispondevano alla realtà, sappiamo come si fanno le immagini, attualissime di stamattina, io ti posso dire... Se vuole ci andiamo insieme una mattina. No, ma possiamo andarci insieme tranquillamente, quando vuoi visivamente, visivamente. Non vorremmo che il sindaco si facesse forte con i deboli e deboli con i forti. In ogni caso è provato che all'interno della Fadini, così come è stato fatto, contingentato l'ingresso, alla fine con gli spazi così ampi, poteva essere... questa è la stessa cosa che è successo per il cimitero. Qualcuno diceva, si è fermata la fila, ma se tutti volevano entrare dalla stessa porta, in cui c'erano 400 ingressi, parlo dei giorni dei morti, c'erano 400 ingressi contingentati sulle tre porte del San Brunone, penso che la fila non si sarebbe creata. Se tutti andiamo alla stessa ora, è tutti quel giorno poi. Cotugno, questo sindaco Melucci che cerca un po' di fare lo sceriffo, scimmiottando Salvini con il suo bel giubbottone dei vigili urbani, cosa è? Qualcosa di scenico? Era necessario mettere quella giacca? Assolutamente, perché aveva tante giacche. Sicuramente no. Cioè quella a Quadretti Porta Fortuna che gli ha fatto vincere le elezioni? Ma... probabile pure che quella sera non aveva quella giacca a Quadretti a traigo. No, no, dico no. O aveva freddo e ha chiesto... Neanche io stasera, non lo so. Ha avuto freddo e ha chiesto un giusto. Non lo so, però questo attiene alla... Alla persona attiene alla persona e quindi è una sua decisione quella di indossare. Così come era per Salvini che cambiava casacca a secondo dove si... E vabbè, ma non è... Però nessuno lo sottolinea questo. No, io l'ho sempre sottolineato. Questo nessuno lo sottolinea. Allora, sto dicendo... Oppure cambiamo le mascherine a secondo il contesto in cui ci dobbiamo. Ma no, quelle tre mascherine che sono state inviate... No, no, non mischiamo troppe cose. Tre mascherine, valgono l'una 50 centesimi. Se posso finire... Con tanto di firma, finato, venuto. In ogni caso, per quanto riguarda il controllo sul effettivo locale, noi abbiamo tenuto l'assessore Cadaldino che dal 13 marzo è stato sempre e costantemente per strada. Quindi il delegato del sindaco a fare quel tipo di lavoro in unione stretta con Questura e con Prefettura, che erano titolati EDA. E il nome del sindaco è l'assessore Cadaldino. Che poi il sindaco si voglia fare una passeggiata con un suo assessore e con la sua forza dell'ordine, mi sembra che sia normale, mi sembra che sia normale. Cosa abbiamo? Un sindaco sceriffo? No, secondo me è positivo che il sindaco... Diciamo, sul fatto della giacca personale non credo sia tanto personale perché la giacca istituzionale con la cosa del vicino urbano non è una scelta che non si mettono la giacca a quadro, non si mettono la giacca... E' una scelta voluta. Esatto. Però voglio dire, la cosa la vedo positiva perché col fatto della mascherina, la ripresa sulla besta, eccetera, eccetera, la passeggiata, almeno lo vediamo. Almeno sappiamo che esiste, che abbiamo un sindaco. No, perché era un po' un sindaco gosso questo qua, fantasma. Allora, questi aspetti secondo me sono da considerarsi in termini positivi. Diciamo, nel male c'è stato un aspetto positivo. Eh, almeno riusciamo a verlo. E' comitato, lei ha ricevuto le mascherine? Sì, sì, sì. Però io ho visto tre mascherine come questa, questa è una... Ringrazio il sindaco, è una che ho ricevuto. Ah, sì. Queste valgono 50 centesimi, per carità è una cosa vera, però avere tre mascherine che valgono 50 centesimi, sembrava un regalo chissà di quale valore, questo marchio del comune, del logo del comune di Taro e della firma Rinaldo Menucci. Uno dice, fosse lo Stato, e dico per dire, delle mascherine di stoffa con l'uomo del comune, già sarebbe stato diverso, ma vendere, tra virgolette, per uno, far apparire per uno, quelle che sono tre mascherine che valgono quattro soldi, mi sembra una seggiazione. No, ma questa amministrazione piace, no? Voglio dire, presentarsi in questo modo, usare i termini inglesi, usare, cambiare, fare la multiservizia e chiamarla a Chima, fare tutto quello che può apparire, ma che alla fine di sostanza non c'abbiamo nulla, ma credo… Un po' sta diventando dipelliana questa amministrazione, come immagine, dipelliana, la c'era immagine di sostanza, andiamo piano, perché la dipelliana amministrazione è quella che ci ha riacciato un guaio… Due milioni e mezzo, forse è quella manifestazione a giugno? Allora, dicevo… Quella manifestazione a giugno di quando? Sì, dei catamarano. L'anno prossimo vedremo quella che sarà, qualora si farà. Poi ci arriviamo… Io volevo dire poi, giustamente, una riflessione sul Sindaco, quando tu dici, finalmente lo vediamo, sappiamo pure che esiste, ma secondo me c'è proprio una genesi particolare del Sindaco Menucci, c'è il Sindaco Menucci, dobbiamo fare un po' un excursus e andare un po' indietro, è un Sindaco che nasce in provetta, non è un Sindaco che si costruisce un'immagine, sappiamo chi è, la politica, quando è stata in politica… È il frutto dell'ingegneria genetica? Sì, un po' come la candidata al sindaco del centro-destra, è il frutto di ingegneria genetica, tant'è vero che non la vediamo neanche in Consiglio Comunale, non la vediamo neanche in Consiglio Comunale, le forze che la sostenerono, è il frutto di ingegneria genetica, politica, qualcuno si fa… Io entrambi, Franco, io entrambi, sono degli organismi politicamente modificati, allora qualcuno che si va a fare un giro nel porto e pesca il Sindaco Menucci, che poi peraltro… Poi si spezza la canna da pesca, è un po' pesante la pesca… Il problema qual è? Che è chiaramente una persona come Menucci, che non viene dal mondo politico, che non ha un suo seguito, ma è soltanto una persona che un giorno stava nel porto, un altro giorno si trova in città vecchia, non ha quell'autorevolezza che il Sindaco deve avere e quindi cosa succede? Che in tre anni è stato, e voglio dire, è questa storia, non mi dire, 16 assessori che sono stati cambiati, crisi in Consiglio Comunale che non si fa… è un sindaco che non c'è neanche la maggioranza, ce l'hanno o forse non c'è neanche la maggioranza… L'autorevolezza è una cosa che ti viene data dalle persone, ma quando tu non hai mai fatto politica, non sei neanche dove stava il Consiglio Comunale, non hai un tuo seguito, per cui non puoi contare su un seguito, tant'è che lo stesso PD è quello che gli ha dato più problemi rispetto agli altri, quando tu devi amministrare con chi ogni giorno ti tira la giacchetta, due Consigli Comunali fanno un gruppo e chiedono l'assessorato, poi si incazza con un altro gruppo e gli revoca il mandato, perché tu devi fare pure una riflessione, un sindaco che cambia 10, 15, 16 assessori ti fa riflettere su due aspetti importanti, se un assessore si dimette perché non condivide la linea politica, per motivi personali, per motivi lavorativi, per altri motivi, per carità, c'ha poco, hai fatto quella scelta, ma quando il sindaco che nomina l'assessore e poi lo revoca perché lo boccia per l'attività che non ha fatto, è una bocciatura alla propria amministrazione, primo, secondo, se tu non sei in grado di scegliere i tuoi assessori, perché io posso dire che sbagli una volta, sbagli due volte, ma non puoi sbagliare 16 volte, 17 volte, 17 volte, allora, questo dimostra l'incapacità di questa amministrazione, di questo sindaco, ma non sono cose che lei dice perché io sono di Fratelli d'Italia, è la storia di questa città, non puoi cambiare, tu lo sei meglio di me, quando nomini un assessore ci vogliono 3, 4, 5 mesi per capire dove stai, che cosa devi fare, che cosa devi realizzare e cosa puoi dare alla città se cambia un assessore ogni 3 mesi, 4 mesi fa è successo casino, dopo l'elezione non dava, li togli e li metti, li metti e li togli, ma si può governare una città di 200 mila abitanti piena di problemi, piena di problemi in questo modo, ma questo è il modo di fare il sindaco, questo ti chiedo è che non è stato l'intento, non è stato l'intellettuale che tu hai, ma lo devi riconoscere, avete una mare di problemi in Consiglio Comunale, tu stesso, tu stesso, per far approvare i regolamenti di Polizia Mortuale, che cosa hai dovuto fare? Addirittura che minaccia pure dimissione dalla Commissione di cui fai parte, è vero o non è vero? E secondo te per un regolamento si può arrivare a questo? La Commissione Attività Produttive, l'ultimo Consiglio, avete ritirato il punto all'ordine della regione, perché ancora non mi siete messi d'accordo, perché se no c'è il problema, se no mi non ha Luigi te ne vai tu, se no mi non ha me se ne va lui, cioè si può governare, una città che non è una città come Modena, Parma, una città ricca, una città che scoppia di problemi, allora bisogna prendere atto di questa situazione. Il suo gruppo, la Galassia che ruota intorno a Vitetti, ha avuto delle fibrillazioni col Sindaco, perché in un'occasione ha votato un provvedimento contro rispetto a quello voluto dalla maggioranza, il Sindaco in un atto, in un gesto d'impeto ha revocato gli assessori, poi li ha ripresi. Voi siete stati le vittime di questi tagli immediati del Sindaco. Con grande onesta intellettuale. Cataldino è stato trattato male. Con grande ma anche Gabriella Ficocelli, ma anche Francesca Portacci sono stati trattati molto male, su una querella nata in Consiglio, su qualcosa che non c'entrava niente, l'adevire o meno alla maggioranza, solo perché da questa parte c'è gente che non è andata a pescare quel Sindaco, ma è andata succedaneamente, altrimenti forse ci saremmo ritrovati in questa città un Sindaco eletta dal centro-destra con l'appoggio e al ballottaggio di un pezzo di centro-sinistra. Non sto parlando, non lo so, è la tua candidata Sindaco, perché poi se tu dici, scusa Franco, per onestà, come battuta, prendila come battuta, se dici che Melucci è stata andata a pescare nel porto, devo dire che qualcuno che aveva conoscenza al carcere, allora proviamo a lavorare. E' stato proprio assente allora in quel periodo da Polizia Polino. No, ma tant'è vero che il sottoscritto aveva un altro candidato Sindaco che il lunedì del secondo... Fami chiarire questa speranza, scusa, la genesi della candidatura di Stefania Baldassare non è per niente avvenuto in laboratorio, perché Stefania Baldassare con le sue liste si è proposta come candidato Sindaco di questa città, tant'è che devi ricordare insieme ai simboli di Stefania Baldassare non c'erano né i simboli di Fratelli d'Italia, né di Forza Italia, né della Lega, ma c'erano tutte liste civiche che prendevano spunto, la Forza Taranto e così via, prendevano spunto, ma proprio perché lei si era proposta con le sue liste, quindi noi non abbiamo organizzato niente dal punto di vista genetico e politico. Ha abdicato alla politica mettendo in una maglietta di cecivica. E' questo in base a quell'autorevolezza che il Sindaco non ha, che Melucci innanzitutto è stato eletto con 950 voti di scarto da Stefania Baldassare, secondo è andato a votare il 32%, l'alleanza con Cito avrebbe vinto, c'è anche le sue cose. Noi non siamo come la sinistra che sta prima contro i 5 Stelle e poi con i 5 Stelle, Emiliano sta offrendo l'assessorata ai 5 Stelle, noi siamo differenti, noi siamo differenti. se per questo pure devo essere contento che veniamo da un'assessorata ai 5 Stelle. Il 32% dei votanti tarantini, su 168 mila persone è andata il 30% ed è stato eletto con il 15% di quel 30%, cioè a dire poco più di 25 mila persone su 170 mila votanti che ci sono attanto, hanno detto vogliamo Melucci Sindaco, ecco perché, torniamo al discorso di prima, manca l'autorevolezza del Sindaco, non c'è un Sindaco perché non c'è un seguito, non ha mai preso un voto, non ha mai andato da nessuna parte e peraltro quando è stato eletto non ha messo le mani avanti e ha detto perché non ne ha le capacità e dire si governa in questo modo, è ostaggio dei consiglieri comunali e tu mi devi dare atto di questo fatto, perché la geografia politica in consiglio comunale quante volte è cambiata? Ma guarda, quella geografia politica è la stessa che sta nelle vostre appartenenze perché chi era con Stefania Baldassarri e portava le magliette tricolori adesso è venuto e si è messo le magliette con il colore proprio di appartenenza, quindi non è che possiamo giocare su più tavoli, è convenuto ad esempio utilizzare i transfughi per eleggere il Presidente della provincia di centrodestra ad esempio, è il Sindaco che si deve fare carico, noi non abbiamo responsabilità, quindi che cosa c'entra? Hai parlato di onesta intellettuale e hai parlato di politica, allora io ti tengo a precisare che io non stavo nelle liste collegate al Sindaco, noi siamo arrivati in seconda battuta, quindi di conseguenza tanto è vero che i miei nomi, il mio partito e te l'hai sentito adesso, è Taranto Benecomune, lista nella quale sono stato eletto e per regolamento, dopodiché ci metto un trattino, perché articolo 1 MDP, se ben ricordi visto che sei persone attenti alla politica, MDP è stata una lista creata nella giunta Stefano, con due, significava democratici e progressisti, che adesso mi onoro di rappresentare in quanto teserato di articolo 1, quindi io provo a fare politica, quindi scusami, perdonami, non accetto che mi dici, abbiamo abdicato a una cadenza e se fosse Stato Stefano Baldassare, a quel punto come partiti politici non vale fatto proprio niente, perdonami. E c'è stato l'errore grave secondo me da Baldassare di rinnegare il centro-destra, ovviamente rinnegando il centro-destra e il centro-destra è stato anche trattato male, perché togliere Forza Italia e chiamarla Forza Taranto, togliere Direzione Italia e chiamarla Direzione Taranto, significa annullare la propria gestità, le cose devo dire, vede Cotugno, io critico il centro-destra ma sto anche criticando il centro-destra, lo sta vedendo, come avviene negli altri concessi, negli altri cittadini. Sì, però sembrava quasi voler dire, non vi facciamo vedere i partiti del dissesto, cambiamo scusami, perché lei nasceva come l'Issa Cirica, come candidata dei presentatori, posso sapere chi era il presentatore, no no no, perché sono tre anni sono, posso sapere chi erano i presentatori delle liste, scusami, poi andiamo, forse c'era qualche presentatore, erano organici, anzi pure segretari di partiti politici e quant'altro che decidono di presentare. Te l'ho detto io prima, anziché forse cittadini si chiamano forse cittadini, diciamo che stavamo nelle stesse condizioni, qualora malagoratamente avesse vinto il centro-destra, dico io, perché poi è come la favola di Esù, la volta che non è arrivata lunga dice che accerba, non credo avremmo governato come sta governando Veloci, non lo so, non credo, non ho avuto la possibilità di vederla all'opera la capitana Sina, non ho visto la possibilità di vederla. Vorrei poi a questo punto parlare un po' della questione ILVA, voi sapete qual è la mia posizione, ognuno ha una propria posizione, io sono per la chiusura dell'ILVA senza sé e senza ma. Anche perché stiamo parlando di ArcelorMittal che è una realtà maledettamente inquinante, sappiamo quello che preoccupano, lo dico io, lo dicono i dati scientifici, ma addirittura è proprio lo stabilimento che sta collassando, sta crollando a pezzi e solo per miracolo divino si sono evitate le ennesime tragedie, penso per esempio a ciò che è accaduto domenica e mi riferisco al nastro trasportatore andato in fiamme, l'incendio verificatosi. L'amministrazione comunale, il sindaco, stiamo in registrazione oggi è mercoledì, martedì credo ieri, ha pubblicato un cronoprogramma di tutti i suoi interventi relativi alla problematica ILVA-ArcelorMittal. Devo dire che ci sono tutta una serie di dichiarazioni di intenti, di annunci, di letterine al Premier, un po' come le letterine che faceva Stefano, però il sindaco a tutt'oggi se ha fatto l'ordinanza nei confronti della chiusura delle fonti inquinanti mi pare a febbraio, a tutt'oggi avrebbe avuto l'opportunità di fare decine di ordinanze e di chiusura per ogni grave violazione di legge, per ogni grave… E quella di febbraio che fine ha fatto? È pendente al TAR, così è stato detto, non deve chiedere a Cotugno. Lui dice, io sto solamente dicendo… No, dico, visto che l'amministratore comunale dà in carica agli avvocati di Genova… No, Vitanza, io sono solamente un'accusa che se oggi rubo questa statua commetto un furto, se domani rubo quest'altra telecamera c'è un altro reato, da parte di ArcelorMittal. Allora, io mi domando perché il Sindaco per ogni situazione che si è creata di grave esforamento, di grave violazione, non ha fatto e non fa singole ordinanze in serie che poi configurerebbero ovviamente una continuità nel modus operandi di ArcelorMittal dal punto di vista delittuoso. Non si può dire, non può dire il Sindaco, perché qui stiamo parlando di diritto amministrativo, non stiamo parlando di stupidaggini. No, ma io come Sindaco non posso fare altro. No, tu se vuoi veramente la chiusura dell'aria caldo, tu chiudi, tu fai le ordinanze di chiusura, altrimenti di cosa stiamo parlando? Di annunci. Evidentemente Melucci non vuole la chiusura dell'aria caldo dell'Ilva e si trincera dietro queste letterine a Babbo Natale, a Babbo Conte, lasciando ad altri la patata bollente. Ultimamente, non ricordo per quale situazione un'azienda petrochimica o una cosa del genere, il Sindaco di Brindisi, che è di sinistra, non è certo di centrodestra, ha fatto un'ordinanza di chiusura. Perché Melucci invece di fare i proclami, le promesse, le elevate di Scudi non fa l'ordinanza di chiusura? Lasciamo perdere Cotugno che poi domani mattina il governo fa una serie di decreti e alla fine chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato. Intanto io, arbitro, ti fisco il rigore, poi se la Federcalcio stabilisce che in area di rigore si può fare appogli, questo è un altro discorso, ma io ti devo fare l'ordinanza di chiusura, perché nei pieni poteri del Sindaco fare l'ordinanza di chiusura, anzi non farla potrebbe costituire addirittura un'omissione. La deve far bene però. La deve far bene, voglio dire, ma almeno la facesse, se non la fa, Cotugno, ho capito, ma falla per ogni casino che combinasse la unità. Prego Cotugno. Apprezzo che fai un esempio con il calcio, perché mi viene in mente una cosa che nel calcio si utilizzava, anzi adesso si utilizza meglio il VAR, solo che noi per il VAR, noi come forze politiche di qualsiasi colore ci chiamiamo attualmente, dovremmo sapere che il problema ILVA l'abbiamo attraversato tutti quanti nell'assoluto silenzio di tutti, nell'assoluta non curanza da parte di tutti, perché tutti forse allattavamo. Allattavano? Forse tutti, no! Quando io parlo di allattavamo, perché io ricordo pure che questa città, nel momento in cui ci fu una fuoriuscita enorme di dipendenti ILVA con tanto di abboni e quant'altro, premi e cose, abbiamo fatto in modo che poi entrassero i nostri figli là dentro, ricordo curriculum lasciati, ed è storia patria questa, nel 2010, circoscrizione Tamburi ad esempio. Per non parlare di quello che avevano fatto i sindacati, appunto sto dicendo, non diciamo, però questa città, appaltretutto, mi deve saper dire se una città così vuole le stesse cose, così come Genova, o vuole chiudiamo tanto stai qua che è dura che Anna Mandela, punto, questa città vuole vivere, ma questa città vuole vivere, non a carico dell'intera cittadinanza, perché la chiusura, senza un piano di ricollocazione economico per i dipendenti, chiusura e smantellamento, c'è lavoro per 30 anni, chiusura, smantellamento e ricommissione, c'è lavoro per 30 anni, questa storia, chiusura e smantellamento, allora ricordo la storia, ricordo la storia, però mi devi far parlare, ricordo io ho incontrato il primo commissario ambientale, il VA, un signore che si chiama Edo Ronchi, Edo Ronchi in quel momento commissario ci disse chiaramente, come commissione comunale, signori se qui fra 1-2 mesi non mi ci mettono i soldi e non c'era certo un governo di centro-sinistra all'epoca, io vado via, perché non intendo campare a carico dello Stato, Edo Ronchi dopo 2 mesi dette le dimissioni, punto, ora interviene con l'Italia e chi si tiene è Arcelor Mittal, lo Stato interviene con l'Italia e si prende Arcelor Mittal, una dieta criminale, notizie di ieri, tanto per cominciare, se è vero come è vero della proposta del 51%, io ho sentito alcuni, del 51% dello Stato che entra, visto che devo pagare le casse integrazioni, tanto vale che lo faccio entrando, dopodiché mi preparo un bando, Arcelor Mittal paga le sue penali e va via, perché non potrà fare, perché non potrà fare, in ogni caso devo prendermi il 51% per dire vai via, per dire vai via, perché qualsiasi discorso è in perdita, ma è in perdita, questo dovremmo visto del mercato, per questo dobbiamo pure capire, perché non dimentichiamo che anche Ilva, come Riveco, noi sul territorio tarantino non abbiamo avuto nessuna mai ricaduta, manco l'IRPEF e manco l'Iva ricadevano, perché questo vale per tutti, quindi non è che può essere una cosa di Belucci che è l'ultimo arrivato, tantomeno di Stefano con le lette vide, ma è tutta quanto una storia di Taranto, del quale nessuno adesso si può lavare le mani o dire è Belucci il sapere spiattolo, di tutto un errore politico che riguarda la destra, la sinistra, il centro e gli affaristi su Taranto, perché poi questo dobbiamo aver il coraggio di dire, gli affaristi sulla nostra pelle e allora dobbiamo avere il coraggio tutti quanti politicamente di ammettere che abbiamo sbagliato e non addebitare a chi si trova, tutti, 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 non l'ho ancora sentito però, non l'avevo sentito, lo stai dicendo adesso, lo stai dicendo, ma adesso in questa trasmissione mi è sembrato, so che Franco sta facendo la sua parte, Franco Vitanza, però Franco Vitanza ha scaricato tutto sull'attuale sindaco, 20 anni indietro, 30 anni indietro, non governava, c'era Belucci, c'era Tito, c'era come è andata l'ordinanza del chiuso dell'Ebato, diciamocelo, il governo regionale che cosa fece in quel momento? Fitto, 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 governo regionale fitto con la DiBello, che non è la questione IVE non solo, sono due facce, la stessa vitale, ci metto pure i 5 e 6, tutta la classe politica, non devi dire vostra, perché fino all'anno scorso erano alleati del centro a destra, Speranza governa con i 5 stelle, Speranza sta lì e sta facendo bene il suo lavoro, grazie, in Italia deve dire grazie a tutti, soprattutto in Calabria mi dispiace solo e soltanto che la Presidente della Calabria ha avuto quel guaio e purtroppo a questo proposito, consentitevi un attimino, voglio ricordare parlando di una persona deceduta quale era la Presidente, ci mancherebbe davanti alla morte c'è il massimo rispetto, così come colgo l'occasione per ricordare la memoria dell'Avvocato Dario Macripò, già sindaco di Lizzano, improvvisamente deceduto, pare per un infarto fulminante, ho avuto modo di conoscerlo, una persona squisita, una persona mite, una persona sensibile alle problematiche e anche simpatico e devo dire ha fatto anche delle battaglie ambientali, pur essendo ovviamente di uno schieramento di centro a destra che non vuole formalmente la chiusura dell'Ilva, e qui voglio così salutare e sono convinto che da lassù stia guardando chi gli ha voluto bene e vorrei ricordarlo con un grosso applauso. Siamo a Taranto, vorrei ricordare anche se aveva la sua età però è sempre una perdita per l'illustre Tarantini, avantiere è morto l'onorevole Angelini, ai quali tanti militari devono dir grazie per le leggi che fece passare come onorevole del PC all'opposizione che fece passare, parlo di legge 100, parlo di… Tante volte ho criticato la prima repubblica, no no no, la sto ripiangendo, figure come le dice Angelini di sinistra, come potrei dire Pinuccio Caroli, democristiano, erano persone che hanno portato davvero benefici concreti al territorio, ora abbiamo parlamentari, penso soprattutto dei 5 estremi, che hanno vinto il gratta e vinci turista per sempre a 15 mila Euro al mese e non eletti. Chiudiamo questa così, allora Vitanza, vi presento questo discorso dell'IVA, di Arsenal e Vital, certamente non bisogna dare tutte le responsabilità, ce le ha ora come sindaco, ma chi l'ha preceduto, ha avuto le stesse responsabilità? Poi ho fatto una domanda precisa, no? Il sindaco che è il massimo responsabile della salute pubblica in una città, perché non attua le contromisure? Cioè firma le ordinanze di sicura? Io capisco Mimmo Cotugno che ha dovuto dribblare e dire no ma la responsabilità è di tutti, non era, Luigi se avevo capito bene la domanda, non era quella di fare un escorso di storico, che siamo nella situazione in cui siamo. Mi sento una domanda da, so che sei avvocato e quindi… No, 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 perdonami, so che sei avvocato e perdonami, mi devi rispondere dall'avvocato, mi dicono dalla regia che se non alza la voce non si sente. Firmata dal sindaco, è impugnata e il sindaco perde al tarco, chi paga lì? Ma chi paga? Divi essere onesti, chi paga? Chi paga in che senso? Chi paga se il sindaco si impugna l'ordinanza? Adesso per esempio, facciamo un esempio, il tar impugna l'ordinanza di Emiliano per le scuole, Emiliano si fa, passa indietro, poteva andare avanti, evidentemente ci sono delle motivazioni, dove vanno sul piano personale, non vanno, vanno sul piano personale, paga il livello d'azienda, e forse non ci siamo capiti, e forse continuiamo a non volerci capire. Io quando ho detto provocatoriamente a Luigi che fine ha fatto quell'ordinanza, sai perché? Perché stranamente, anche se Fano fece un'ordinanza ed è bella sospensiva dal tarco, il gruppo siderogico, Melucci fa l'ordinanza e stranamente arriva la sospensiva. Allora, l'ordinanza sindacale ha dei canoni ben precisi, cioè ci deve essere la sommulge, ci deve essere motivato, non riesco a capire perché ogni volta che si fa un'ordinanza sindacale, puntualmente il tar da la sospensiva, ma non è che per caso è fatta male, dico per caso è fatta male l'ordinanza? Allora, siccome io vedo gli incarichi che dà questa amministrazione, un avvocato di Genova, avvocato di Roma, e quindi voglio dire che chiamano questi luminari, ma potete chiamare un avvocato amministrativista di Lecce, di Tad, che ti fa un'ordinanza come si deve fare? Però questa era la domanda provocatoria, non perché non ha fatto il ricorso, perché aspetta, non era questo… Non mi hai risposto da avvocato però, alla domanda specifica non mi hai risposto. Allora, quando tu dici Melucci perché non firmo, facciamo un passo indietro, non dopo le guerre puniche, quando è stato eletto Melucci, Melucci forse non ricordate che ha utilizzato la questione dell'Ilva come Grimaldello per aprire una polemica insieme ad Emiliano contro Calenda, vi ricordate? Quando poi litigò con Emiliano per i pettegolezzi che si dicono, che è successo? Usò lo stesso Grimaldello per accordarsi col Calenda contro Emiliano, questo lo faceva per la questione dell'Ilva sulla pelle dei Tarantini. Ora, in questi anni quando lui dice cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo fatto, premesso che la posizione del centro-destra è questa, per noi lo stabilimento non può essere chiuso, però bisogna salvaguardare innanzitutto la salute delle persone, i posti di lavoro e poi le imprese… No, ma il problema è un po' diverso, perché innanzitutto la storia… Aspetta, il problema qual è? Ora, Arcuri… Contemperare di ambiente e lavoro, mi vieni mal di testa pure dicevi che stessi, tu ora hai uscito un altro argomento che è quello del 30 novembre, dove probabilmente entrerai in società con Arsenal Mittal, con il 51%, ma tieni presente che queste cose che stabiliscono nelle segrete stanze, tra il PD e il 5 Stelle e così via, ancora non abbiamo contezza del piano industriale, non abbiamo contezza di quello che si deve fare e poi se avesse voluto sbattere fuori, Arsenal Mittal l'avrebbe fatto quando a febbraio stava l'udienza per la rescissione del contratto, non so se vi ricordate, perché Arsenal Mittal, siccome non aveva avuto più l'immunità, siccome aveva trovato tutti questi problemi, ha detto beh io chiedo la rescissione del contratto e pendeva a Milano l'udienza che poi è stata ritirata perché sempre, grazie al PD, grazie al 5 Stelle e così via, che dovevano cambiare il mondo, erano 4 amici al bar, alla fine non si è fatto niente e giustamente tu dici ma come? Io ho una, scusa, io ho uno che sta facendo cadere a pezzi, a pezzi lo stabilimento è abbandonato a se stessi, la di Morselli non è di centrosinistra, è una donna per tutte le stagioni, no è una donna che conviene a tutti, quindi anche a centrosinistra, no conviene a tutti, anche a chi la indica in alcuni posti, anche a chi la indica in alcuni posti, non dimentichiamo la storia di Taranto, proprio nell'ultima missiva a Conte, al Premier Conte, mi sembra un po' l'elettrice di Stefano, va bene, arriva Natale, forse Babonata non viene, facciamo le luminarie, ha scritto a Conte dove ha rimarcato la situazione dell'Ilva, la insostenibilità di questa situazione e quant'altro, tutte queste cose dell'Ilva non sono nate ora di Arcelor Mittal, ma stanno da almeno 2-3 anni, da quando il Sindaco si è insediato, perché quando Conte è venuto a Taranto il Sindaco Melucci è stato così dolce, accondiscendente nei suoi confronti, felice di tagliare nastri e sottonasti, io avrei preso Conte e l'avrei messo con le spalle al muro, dicendogli amico, al di là delle belle cose dell'Università di Medicina, della Possa, della Prima Pietra, del San Cataldo, Premier, qui c'è un problema, che voi state procrastinando, la questione Arcelor Mittal, il Sindaco quando è venuto Conte sembrava un chirichetto davanti al Papa, molto accondiscendente, morbido, felice, politicamente servile, politicamente. Un po' come quando nel 2000, 2001, 2002, ora non ricordo esattamente, ma parliamo degli anni 2000, Taranto per accogliere un primo ministro come Conte, non so dire il nome perché penso che ve lo ricorderete, addirittura inaugurò 500 mila Euro di giochi d'acqua che hanno funzionato un solo giorno. Sì, ma siamo sempre allo stesso, no, 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 siamo sempre allo stesso, certo, sono uguali, no, no, però questo non lo dici, cioè tu facci sempre o no? No, allora, il Sindaco Berlusconi arriva a Conte e si comporta, non è dura, e perché l'Adibello, invece dei giochi d'acqua, non l'ha fatto vedere l'Ilva Berlusconi, il 2002, quando lo dico in dialetto, così i bandini lo capiscono, no, no, non c'entra niente perché i catamarani e qualsiasi altra iniziativa si sta facendo attacco, tra cui 73 progetti che vengono dalle schede, dove c'è una ristrutturazione complessiva? Solo 2 milioni e mezzo di Euro? Mi fai finire? Mi fai finire? Mi fai finire? Non solo 2 milioni e mezzo, non solo 2 milioni e mezzo, voglio capire dove, allora, trovermi una carta dove c'è scritto 2 milioni e mezzo, la cifra non la sappiamo, per il momento si tratta di un apposta, Ciccio tu hai fatto amministrazione, Francesco Vitanza, non sei un neofita, quello è un appostamento qualora debba avvenire qualcosa, non possiamo pensare che se la cosa deve avvenire, non abbiamo i fondi e dobbiamo andare a fare una variazione, io riempio il PEG, io riempio il PEG, mi fai finire? Quando fai queste cose, una… No, no, io ti sto parlando che per far venire il Premier, a me spingi 5 mila Euro nel 2002, punto. Ti voglio dire, nel momento in cui voi accantonate 2 milioni e mezzo di Euro, a parte che è un milione e due, è un milione e due, no perché sono 2 milioni e mezzo, continuo a dire chiacchiere, che ho sentito anche il Consiglio Comunale, da parte della tua parte politica ti informano male, ti informano bene, d'impostamento in bilancio, significa che si stanno lì, se si sale, se dovesse farsi, si investono perché altrimenti sei costretto a dare il месяco con il bilancio. oggi ne abbiamo approvati 30 sai da dove vengono sono tutti quelli del dissenso caro mio caro mio e se avvocate lo sai bene di quanti si sono svegliati dopo il 2018 dice ma non hai capito alla solda da loro tanto non ottenevo bisogno di pigliarmi la domanda punto perché avete avete accanto a 2 milioni e 2 in base a quale non è un milione e due due tre cinque perché avete un'idea di quanto può costare orientativamente quella manifestazione se non ciò può costare pure 200 mila euro in ogni caso non sono né detrazione da fondi né detrazione ma sono il nostro tesoretto che manteniamo costante e meno male che ce l'abbiamo messo assolutamente assolutamente no perché ristori ne abbiamo fatto assai ristori ne abbiamo fatti assai il covid dura il covid dura allora io parlavo con un commerciante l'altro giorno che mi diceva ma al contrario di tanti altri guarda che la mia attività commerciale o quella di mia figlia a marzo ha preso 3.700 euro naturalmente sul fatturato dell'anno precedente quello che aveva perso adesso sempre su quel fatturato dell'anno precedente una pigliata 10 mila e stanna già su suo conto quindi so chiacchierò bene con tutto quello che si racconta io non voglio difendere i commercianti no 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 io ti sto dicendo quando io ho un'attività che faceva l'attività fino alle 11 fino a mezzanotte significa mandare a casa i dipendenti significa mettere in casa i denazio i dipendenti allora non esistono solo gli imprenditori caro esistono i poveri cristi nero che si prendono 600 euro al mese e che ora purtroppo è da condannare il nero e per non anche questa città è da condannare chi li fa lavorare certo certo è da condannare coloro i quali prendono gli immigrati e li pagano un euro e assumono le proprie modi e la campagna quindi non mi parlare di lavoro nero perché il lavoratore è nero e c'è un lavoratore senza diritti la ragazza di 600 euro che prende 600 euro al mese che deve magari il suo stipendio è da 1.200 poi li fanno portare il resto indietro no no deve avere un contratto perché se la ragazza se c'è quel contratto se li è caricati tutti quanti lo stato ma e se li è caricati tutti quanti lo stato esiste allora no se tu stai parlando di cosa è illegale perché il nero è illegale chiunque lo faccia è illegale e allora e perché si la mette il commerciato e perché si la mette il commerciato perché sei a nero perché sei a nero perché sei a nero siamo d'accordo ma io mi sto dicendo c'è quel commerciante che ti assume a nero se nessuno ci va a lavorare la persona che va in nero chiude la persona che lavora in nero non lo fa trasgredisce certamente la legge acconsentendo a quell'illecito ma è un povero cristo però ci sono pure un sacco ci sono un sacco di però poi da altre parti sento commercianti che dicono ma perché il lavoratore il lavoro in nero lo fanno pure quelli che sono in prevenzione lo fanno quelli che sono ucciti e allora come fai a fare la statistica come fai a dire che quello oggi oggi guardando gazzetta del mezzogiorno guardato ho visto una cosa che non è andata tanto lontano da taranto ma safra 10 persone per aver percepito il reddito di cittadinanza che rendono di palazzicismo falso questa gente risultava senza lavoro e faceva il lavoro a nero si prendeva il coso poi magari ha fatto pure la cosa per il buono passo poi no mi devi far finire mi devi far finire poi forse ha fatto pure la domanda per prendere i 250 o i 500 euro di buona spesa durante il covip punto e mi fermo qui il lavoro nero che va condannato e che deve emergere ma al di là del lavoro al lavoratore a nero ci stanno pure quelli che sono regolamenti assunti e che stanno prendendo 300 euro di cassa integrazione perché quando la prendono e questa è un'altra polemica che comunque l'attività abbiamo fatto anche nei confronti della cassa integrazione è parametrata a quanto è il tuo contratto non ho capito la cassa integrazione è parametrata a quanto è il tuo contratto la è parametrata a quanto è il tuo contratto lui ha detto 300 se è parametrato alla cassa integrazione quanti cint'e ora tenete sapete questa qua e la picchia dalle 300 se repartano e picchiamo i 600 euro da cassa integrazione quando una picchia 2000 euro può picchia l'80% la cassa integrazione ma tu hai idea della filiera dei lavoratori partagli che noi abbiamo a Taranto c'è il tessuto economico e sociale lo conoscete o non lo conoscete tu mi hai fatto mi hai parlato del rete di cittadinato ma il comune dal 2019 ad oggi i servizi sociali la sicurezza sociale quante persone che prendono il reddito ha impiegato nelle otto ore settimanali da dare al comune dimmi quanti zero zero voi non siete neanche riusciti a utilizzare una persona che prende il reddito di cittadinanza per le attività dei servizi del comune neanche una persona per dire vai a casa di quel povero Cristo a portargli la spesa e lo potevate fare perché sono tenuti a dare otto ore a settimana al comune non ne avete utilizzato non avete avuto la capacità di utilizzarne uno rispetto a questo momento di emergenza del Covid che avevamo è fatto bene a dire una cosa che ha preso il reddito di cittadinanza ha preso anche i buoni pasto e questo va a denunciare ho fatto io ho fatto io il ragazzo perché vuoi una famiglia di parlare tutti i buoni pasto tutte le varie sono di procura tutti i buoni pasto è stato già in procura raccolto è stato già in procura adesso se la vedo la guardia di la fidanza perché è dichiarato il falso è una cosa e chi ha dichiarato il falso e lo puoi vedere solo date alla mano non puoi entrare nessuna delle persone il sindaco e l'assessore a ramo dire sono pervenute tante domande tanti apporti sono stati fatti controlli anagrafici hanno avuto questo risultato no 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 in piena emergenza tu non puoi fare nel giro di dieci giorni il controllo anagrafico sì sì caro franco nel momento dal momento in cui c'è stato il bando al momento in cui c'è stato ci sono passati dieci giorni e sai quante pratiche sono state presentate oggi e non parlando e mica se dava la buona pasta mo no mica se dava la buona pasta non ti preoccupare non ti preoccupare non ti preoccupare sarà fa per i buoni pasto dieci giorni avevamo di tempo la fretta della città compreso i tuoi consiglieri bisogna pagare queste persone allora si è pagato con l'avvertenza però detto dappertutto che poi statevi attenti che il problema è vostro è soggettiva la cosa non è oggettiva da parte che voi nei dieci giorni dovete fare contro io ti ho detto un'amministrazione trasparente un'amministrazione trasparente franco lo siamo troppo trasparente è tanto che non lo avete nessuno lo siamo troppo sì allora un'amministrazione trasparente perché quello che si fa non si fa la luce del sole poteva rendi contare e dire non dopo dieci giorni io sto parlando di novembre poi era dire abbiamo avuto tante domande tante sono state accolte tante sono state respite perché nella variazione di bilancio nella variazione di bilancio c'è scritto pure che noi abbiamo abbiamo messo pure 850 mila euro per a divenire a eventuali nuovi buoni spesa e tutto quanto chiedo scusa in attesa che ci arrivano i soldi dallo stato che ancora non ce li ha dati ecco a che cosa è servito la variazione di bilancio e si arriva a 2 milioni e mezzo perché la baffanita è in zucca allora si spiegano bene le cose alla città tutti tutti ecco ti rifaccio di nuovo la domanda se una volta che voi avete dato i buoni pass a marzo aprile quando è stato sul milione 410 mila euro che la protezione civile vi ha dato io ti sto dicendo perché l'assessore o il sindaco non ha rendi contatto non è dopo una settimana un mese due tre quattro cinque dicendo abbiamo dato totta sono arrivato il tuo partito scusami chi sono i rappresentanti del consiglio comunale del tuo partito scendendo su no 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 me lo devi dire perché base rappresentano devi dire poi abbiamo chiamato tre volte la sessione presente anche i rappresentanti del tuo partito dove sono state rendi contato numeri buoni e uscite tutto qua e anche la classistica di coloro i quali non avevano avuto avevano avuto sbagliato rendi contato tutto forse mi manca l'informazione ecco perché ti dico della trasparente se puoi sì no no l'informazione ma a me la presentate con la tua maglietta e che c'è il dovere di informare giustamente la sua forma la città il partito il dovere di il dovere di informare la città e ma guarda anche perché avete non c'è differenza quando si tratta di informare o si fa una giusta informazione proceduramo che cosa per i buoni passi che dovete da perché non siamo in emergenza perché ancora non siamo in emergenza non è stato chiarito da nessuno se siamo in emergenza perché non date più vociere dovete avete fatto l'avviso pubblico perché una ditta deve prendersi in carico queste cose deve dare i buoni deve utilizzare la scheda della come si l'aria dove dovete caricare la i soldi e poi la gente con quella testa deve andare a pagare certo perché così è tracciabile anche il buon pasto posso dire che siamo venuti a conoscenza purtroppo che anche i buoni pasto venivano venduti a metà prezzo posso dire che c'è gente che ha portato i buoni pasto per comprarsi le forme di parmigiano a questo a quello posso dire che sono stati pagati con i buoni pasto i debiti che si avevano da altre cose c'è questa è mi mamma lo devi dire al tuo assessore che deve fare i controlli no 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 ma una volta uscito il buono così così diventa chiaro che si è andata a spendere il buono pasto con tanto di tracciatura di codice fiscale caro franco ecco la trasparenza non ti do un buono che puoi andare a spendere tu mi tracci quello che puoi comprare è come per il re di cittadinanza non puoi andare a comprarti le sigarette con la tessera caricata con il re di cittadinanza non puoi andare a spendere al ristorante con la tessera pagata con il re di cittadinanza quanto la tracciatura la tracciatura serve se poi dici che si trova le scamotate ma è la gente in balafide c'è sempre franco la gente in balafide c'è sempre che deve già studiato come fottere il prossimo ma sta fottendo me te e lui certo e non esiste colore politico non esiste colore politico nella delibera del tuo sindaco scusa è la giunta dove non ci sono manchi impegni tutto quello che vuole fare peraltro la delibera fatta il 12 novembre cioè non fatta a luglio quando si sapeva che sempre in ritardo poi dando dando compito poi le direzioni tutta la tua parte politica a luglio diceva che aveva un covi davvero valido tutta la tua parte tutte le regioni dove tu abilistrati tutte le regioni dove tu abilistrati devo fare l'elenco ma dice so chiacchiere crede che stai dicendo speranza sono chiacchiere quello che diceva speranza quello che diceva speranza a marzo aprile parlando di speranza alla sanità spera spera a terra delle battute allora intanto devo precisare un aspetto io ho detto e voglio e non voglio essere come dire equivocato perché magari forse mi sono espresso non correttamente non ho espresso correttamente il mio pensiero ho detto che fermo restando la condanna verso il lavoro nero nei confronti dell'imprenditore che si macchia di questo reato e fermo restando anche la condanna di chi subisce il lavoro nero ma è come dire la parte debole e la parte che purtroppo non ha la forza di ribellarsi perché altrimenti rimane come si suono dire a tardi in mezzo alla strada io ho detto ho detto fermo restando questa condanna che c'è anche una situazione di persone che lavoravano in nero e condanniamo per l'ennesima volta chi lavorava in nero e chi ha costretto questa gente a lavorare in nero che però però si trovava costretta in questa situazione per uno stato di necessità perché l'alternativa era chiedere l'elemosina agli angoli delle strade e che questo sistema che questa crisi perché non dobbiamo essere falsi perché nei bar ci sono i ragazzetti e le ragazzette che lavorano in nero per 500 600 euro al mese non mi venite a dire che non è vero anche questa situazione taglia questi poveri cristiani quella che dice quella che dice qualcuno lunga carriera politico amministrativa anche se ho fatto per una volta e mezzo ancora il consigliere comunale è una legislatura il consigliere provinciale però mi è capitato pure di fare l'assessore l'assessore al patrimonio di quella gente di quella gente che vuoi fare file ai nostri servizi sociali non sto parlando che è no è no parlando del povero cristo che dice mi servono sto parlando del povero cristo allora del vero povero cristo alla fine ho imparato che quando vai a fare un attimino gli incroci ti accorgi che quel povero cristo il povero cristo reale te lo dico proprio francamente alla dignità di non dirlo a nessuno ma c'è anche quello che ha la dignità di non dirla a nessuno alla dignità di non dirlo a nessuno ci abbiamo alla termine verso il termine della tradizione una domanda così di futuro politico chiamiamolo così manca un anno e mezzo un anno e mesi al rinnovo del consiglio comunale del sindaco e chiaramente gli schieramenti si stanno preparando vitanza questo centrodestra a taranto io lo credo silente guarda non è trasparente nel senso che non si ride non metto in dubbio la trasparenza morale come ha detto lei corrono dei nomi si parla di pietro pastore candidato sindaco dell'ingegner vecchi guarda noi ora siamo concentrati comunque alle prossime anni che quindici anni che il centrodestra aperto a tutti i servizi quindi dovreste anche un po' capire dove le ragioni delle confritte siamo concentrati comunque alle prossime scadenze di marcio c'è un grosso problema di agibilità politica per il momento che stiamo vivendo perché non puoi fare le riunioni non puoi contattare le persone perché chiaramente prima di tutto tuteliamo la salute delle persone e quindi diciamo che può apparire un silente il centrodestra ma di fatto non lo è d'altra parte voglio dire noi nella compagine regionale ci siamo presentati coesi uniti e la stessa cosa faremo nei comuni della provincia è sicuramente a taranto ci sa il tempo per lavorare sono veri questi due nomi candidato sindaco vecchi ingegner vecchi che fa parte del cda di infrataras di pietro pastore guarda è proprio prematuro fare i nomi anche perché fino ad ora non ne abbiamo per niente parlato quindi stiamo soltanto pastore che il suo collega coordinatore cittadino di fratelli di tagli sono due coordinatori cittadini io e pietro pastore e due coordinatori provinciali che è Dario Iaia sindaco di Sava e Pilolli che diciamo dovrebbe rientrare perché essendosi candidato forse candidato sindaco di Massa io glielo auguro io sarei contento perché lo stimolo no ma pure io dico glielo auguro perché comunque è una persona valida una persona di partito una persona che ha fatto una lunga gavetta che ha quella autorevolezza che serve per fare il sindaco di cui parliamo quindi aspettiamo e vediamo ci stiamo organizzando ma sarà un sindaco residente a Taranto? sì sì perché non è un sindaco residente a Taranto? no ha passato Cristiano ha già dato ma un sindaco la prima esperienza si cambia come? è quarto non era due ma quarto non è centro noi a Massa vi presentiamo con Gentile scusate ma ce l'hai letta a quarto no centrosinistra ma che stiamo dicendo ma che stiamo dicendo un centro l'ho detto che qua ci abbiamo volta confusione ci mettiamo delle magliette poi ce le togliamo poi parliamo nelle forze civiche noi abbiamo il nostro candidato del centro che era Raffaele Gentile gentile attuale coordinatore di Forza Italia di Massafra e che sta era consigliere provinciale mi sembra anche vice presidente della provincia e la stava proprio il simbolo di Fratelli di Taranto non è neanche questa capuffata probabilmente sfugge questo quarto sicuramente non è del centro terzo quindi Protonio invece Melucci si sta chiaramente preparando in tutti i modi per il rinnovo per la rielezione e il centrosinistra cosa farà alle primarie? se dovesse nascere qualche altra candidatura come è stato per Emiliano? io posso parlare anche a nome del gruppo del quale sono federato perché al sindaco è stato detto molto chiaramente parlo di Italia in comune, Taranto bene in comune e centristi per Taranto poiché siamo dell'avviso perché in mezzo a noi c'è gente che ha l'esperienza pregressa per me resta sempre che un candidato o un sindaco alla prima esperienza va ricandidato senza primarie ed è giusto che il partito di maggioranza relativa con sette consiglieri comunali anzi direi di più poiché il nostro gruppo è quello che è arrivato succedaneo tutti quanti coloro i quali hanno sottoscritto il programma di Melucci dovrebbero sottoscrivere adesso una ricandidatura di Melucci e se Vitetti volesse legittimamente aspirare a fare il sindaco potrebbe dire facciamo le primarie o no? assolutamente, assolutamente sia chiaro che Vitetti non ha questa intenzione no 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 noi strategicamente ci lavoriamo così evitiamo gente Emiliano perché le ha fatte? perché poi in politica si gioca vabbè Ottugno perché Emiliano ha fatto le primarie? in politica si gioca Ottugno perché Emiliano ha fatto le primarie? è stata una scelta di Emiliano è stata una scelta di Emiliano mettersi a disposizione è stata secondo me questa è la domanda non si tratta di non voler fare si tratta di correttezza politica e quindi dei partiti dire che un sindaco ha la prima esperienza non si fanno primarie così come è accaduto per Stefano 2 così come è accaduto per Stefano 2 secondo me ha sbagliato l'interlocutore la domanda non la devi fare a me ma la devi fare a me del PD secondo me sarà candidato Melucci senza primarie si sta vedendo anche come si sta muovendo sarei contento se fosse così sarei contento ma sarei aspettato che mi avessero sottoscritto perché io l'ho detto ufficialmente a Melucci con tutto quanto il gruppo federato sottoscrivessero i partiti adesso in questo momento però Melucci tra Melucci e Vitetti si sta tirando troppo la corda e poi quando la corda si tira troppo si spezza il problema è all'interno del PD posso assicurare una volta già si è spezzata e poi si è riannodata no 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 come no? gli assessori fatti fuori allora e la politica e lo so che la politica vuole utilizzare il manuale Cencelli intanto per cominciare dovrebbe utilizzarlo se vuole il manuale Cencelli dovrebbe fare quel documento che ho detto prima utilizzate il manuale Cencelli è nominato il Presidente della Commissione di Attività Produttive cazzo otto mesi che non c'è stato preso cioè è possibile che non riuscite neanche a nominare un Presidente della Commissione la Presidente di una Commissione consigliare importante e il manuale Cencelli evidentemente non si riesce a trovare sono i consigli che vi do però se ti vai a affidare delle cose che dice quella che adesso si è messa la tua maglietta però aveva firmato il programma di Rinaldo Melucci per piacere lasciamo stare perdonami è stato anche vicino ai maschi sto parlando di quello il quale di persona fisica ti ha firmato e porta queste stesse cose in Commissione perché noi le sentiamo e tanto è vero che ieri il Consiglio Comunale io ho detto al Sindaco Melucci guarda che io sono venuto adesso qualcuno che adesso ti sta criticando ha firmato il programma con te quindi guardati dalle persone che avevi vicino stava assieme a pescare nel porto allora quella persona a pensare ai consigli comunali mi spieghi perché da otto mesi non ci sta il Presidente della Commissione di Attività Produttiva vuoi sapere? vuoi sapere? a parte che non sono otto mesi ma sono d'aprile ti posso assicurare il Vice Presidente il Vice Presidente di quella Commissione era il sottoscritto che da quel momento non ha più partecipato quindi c'è un voto e c'era tutta quanta la possibilità che nel momento in cui non c'era il Presidente ha partecipato il Presidente ha tutta la titolarità e tu me ne sei da regolamento comunale che finché non va in consiglio e lo eleggi il Presidente perché l'hai detto anche tu l'hai detto anche tu anch'io ho minacciato le dimissioni d'ambiente d'ambiente sul regolamento dopodiché le cose sono andate come ha fatto il sottoscritto punto come stanno le cose? non è riuscita ad eleggere il Presidente perché non torna la quadra no 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 la quadra torna perché altrimenti si fa in due minuti l'elezione del Presidente è chiaro che se però come dicevo prima non c'è una maggioranza uno esce l'altro entra diciamo che c'è un problema abbiamo questo e questa è la verità questo Covid non è il fatto che sta il Vice Presidente Vice Presidente non è il Vice Presidente rispettosi del degli avvertenze che ci fanno a tutti questo Covid non ci viene di stare molto assieme e poter parlare guardandoci in falso speriamo che finisca quanto prima questo Covid così riprendiamoci la Presidenza dell'attività per il 30 novembre avrai anche il Presidente di Attività Progetto e avremo di nuovo Asselo Ormittal alla guida a gestire NIVA insieme allo Stato avrei lo Stato però avrei lo Stato con Asselo Ormittal poi qualche Tarantino mi deve dire che cosa deve fare avremmo anche risolto il problema e qualche Tarantino ammalato di cancro vuole anche sapere dove deve andare a curarsi qualche Tarantino mi deve dire dove deve andare a lavorare va bene perché basta e allora ringraziamo una bella puntata di pace ma molto civile come civili e democratiche sono i due ospiti che saluto e ringrazio Mimmo Cotugno capogruppo di Taranto Bene Comune articolo 1 insieme al Consiglio Comunale di Taranto e il Dottor Franco Pitanza coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia bene abbiamo ripreso questi dibattiti di Polifemo lo faremo ogni venerdì che dire vale il solito brocardo non è venerdì se non è Polifemo Polifemo l'informazione libera della città buonasera